Si è reso necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina per limitare il pericolo causato dal crollo del soffitto del primo piano di uno stabile di via Martinez nel quartiere Marina. L'edificio, composto da tre piani, è disabitato ormai da tempo e presenta già a vista d'occhio dall'esterno i segni dell'incedere del tempo. Si tratta infatti di un immobile datato e su cui da diversi anni non viene effettuata alcuna manutenzione. Stamattina un boato ha fatto scattare l'allarme con i residenti che hanno immediatamente avvisato i pompieri intervenuti in via Martinez per i primi rilievi del caso. Non ci sono stati fortunatamente feriti. La strada è stata interdetta al traffico da una volante della polizia municipale. Sentendo alcuni residenti in zona, la denuncia sulle condizioni tutt'altro che sicure a livello di staticità dell'immobile era stata prodotta diversi mesi fa. Stamattina il cedimento con il soffitto che di fatto è venuto giù, invadendo il locale sottostante. Il rischio è rappresentato dalla vicinanza con un condominio di via Martinez, questo invece densamente abitato. Quello degli immobili pericolanti è un parametro con cui praticamente tutto il quartiere marina si trova a dover fare i conti. Si tratta infatti di uno tra i più antichi rioni della città, dove molti degli stabili sono stati abbandonati e non sono più abitati da parecchio tempo, con conseguente mancanza della necessaria manutenzione.